Diamo il benvenuto al nuovo arrivato nella famiglia Surface. Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e bentornati su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale dove potrete scoprire tutte le novità non solo di Surface ma anche di Windows, di Microsoft 365 e quindi di Office e anche dell'intero ecosistema di Xbox. Oggi possiamo dare il benvenuto al nuovo arrivato della famiglia Surface, ovvero il Surface Laptop Go 2. La particolarità di questo Surface, successore del precedente Surface Laptop Go è quella di essere un dispositivo premium in un form factor classico, ma estremamente portatile, che racchiude prestazioni affidabili e che vi permetterà di portare a termine in tranquillità tutti i vostri task quotidiani. E oggi scopriremo tutto di Surface Laptop Go 2 e andremo a vedere insieme tutte le caratteristiche più incredibili e importanti, oltre a tutte le novità e differenze che lo contraddistinguono dal modello precedente. E se vi piacciono questi contenuti di approfondimento riguardo prodotti e servizi Microsoft sappiate che ne abbiamo già moltissimi qui sul canale, come il nostro video dedicato a raccontarvi le 6 cose più incredibili di ogni Surface o il nostro video dedicato a mostrarvi nel dettaglio il nuovo Microsoft Ocean Plastic Mouse. Quindi se non volete perdervi nessuno di questi video pubblicati settimanalmente, direi proprio che dovreste iscrivervi. Bene, che dire, iniziamo! Direi di procedere aprendo la confezione. Eccolo in tutta la sua bellezza. Elegante, leggero, portatile e potente. In un dispositivo di queste dimensioni Microsoft è riuscita a racchiudere tutti i punti salienti dell'esperienza di Surface e di Windows 11. Dentro questa scocca composta in alluminio nella parte superiore e resina composita in policarbonato con fibra di vetro nella parte inferiore, possiamo ammirare un magnifico schermo PixelSense da 12,4 pollici nell'esclusivo formato 3.5 dei display di Surface. Questo formato vi permette di avere a disposizione uno spazio verticale del 18% più ampio rispetto al classico formato in 16 noni, presente nella maggior parte dei laptop in commercio. E fidatevi, durante l'uso quotidiano per lo studio, il lavoro, l'intrattenimento, avere più spazio per gestire le app a schermo, velocizzerà di molto il vostro multitasking, grazie anche alle nuove funzioni di affiancamento delle finestre di Windows 11. Questo magnifico schermo è anche touch, quindi potrete sfruttare tutta la naturalezza dell'uso, tramite il tocco, nelle vostre app preferite. La potenza di Surface Laptop Go 2 è una garanzia, grazie ai velocissimi processori Intel Core i5 di undicesima generazione, che vi permetteranno di utilizzare le vostre app abituali a piena potenza e affrontare le vostre giornate di lavoro, shopping o streaming dei contenuti sul web. Surface Laptop Go 2 è disponibile in diverse configurazioni, per un massimo di 8 GB di RAM, e 256 GB di SSD e con una batteria che dura ben fino a 13,5 ore. Io amo portare Surface Laptop Go 2 ovunque, per usarlo sempre quando devo viaggiare e fare presentazioni, o scrivere i miei documenti al volo sulla suite di Microsoft 365. Questo Surface non è solo estremamente comodo e facile da trasportare per le sue dimensioni, ma anche per il peso. Infatti, in appena poco più di un chilo, è ideale per non affaticare la mia schiena durante i lunghi viaggi. E come non citare la tastiera? La tastiera di Surface Laptop Go 2 è comodissima, in quanto mantiene le dimensioni standard, ha una corsa di tasti ridotta ed è supportata da un trackpad di precisione, che vi consente di esplorare, scorrere e selezionare facilmente file e applicazioni, senza dimenticare il supporto alle comode gesture avanzate di Windows 11. Surface Laptop Go 2 vi permette anche di connettere tutti i dispositivi più importanti per voi, perché è dotato di una porta USB-A, una porta USB-C e di un connettore jack per le cuffie sul lato sinistro, mentre sul lato destro è presente il classico connettore Surface Connect, che con il caricatore fornito in confezione vi permette di sfruttare la ricarica rapida e di caricare fino all'80% in poco più di un'ora. Bene, parliamo ora di sicurezza. Come ogni Surface, anche Surface Laptop Go 2 è dotato di un sistema di sicurezza Windows Hello, grazie al pulsante di alimentazione dotato di lettore di impronta digitale, che vi permette di accedere a Windows con un solo tocco. E se volete scoprire tutti i benefici di Windows Hello, vi consigliamo di recuperare il nostro carosello dedicato sulle pagine Instagram e Facebook di Microsoft Expert Zone Italia. E non dimenticatevi di seguirci per non perdervi nessuno dei nostri post dedicati. E per chi come me passa gran parte del tempo ad effettuare videochiamate per lavoro, per studio o per famiglia, in applicazioni come Microsoft Teams, abbiamo l'integrazione di una videocamera HD incredibile e due microfoni da studio in grado di catturare il suono della vostra voce in modo chiaro e pulito, anche se siete distanti dallo schermo. Questo spezzone di video è stato registrato interamente tramite la videocamera e il microfono di Surface Laptop Go 2. Cosa ne pensate? Ma per chi è ideale quindi Surface Laptop Go 2, questo dispositivo è ideale per tutti quelli che desiderano avere i benefici completi di un laptop, uniti alla massima portabilità, leggerezza e versatilità per svolgere attività quotidiane di ogni tipo, dal lavoro al relax. Se vogliamo poi personalizzare ulteriormente il nostro Surface Laptop Go 2, possiamo scegliere da un ampio catalogo di accessori Surface unici e di servizi Microsoft. Eccone alcuni che fanno al caso vostro. Ovviamente l'Arc Touch Mouse e il mouse in grado di appiattirsi per adattarsi a qualsiasi borsa, o anche alle vostre tasche, basta piegarlo per connetterlo ai vostri dispositivi. Naturalmente è Microsoft 365, per accedere all'intera suite di Office ovunque ne abbiate bisogno, risparmiando tempo prezioso grazie alle funzionalità premium e all'integrazione di OneDrive che vi permette di ampliare la memoria di Surface Laptop Go 2 di ben 1TB di spazio virtuale per ogni membro della vostra famiglia. Inoltre potrete condividere, modificare e archiviare centinaia di migliaia di foto e documenti su tutti i vostri dispositivi e senza contare la presenza del Vault personale, che è la vostra cassaforte digitale per tutti i vostri contenuti più importanti. Infine con Xbox Game Pass Ultimate potrete accedere al Cloud Gaming di Xbox e giocare a più di 100 giochi di grande qualità per console, aggiornati costantemente, direttamente da Surface Laptop Go 2 con un controller wireless Xbox disponibile in varie colorazioni. Basta avere una connessione a internet. E voi cosa ne pensate di Surface Laptop Go 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e iscrivetevi per non perdervi mai nessuno dei nostri contenuti. E se volete parlare con noi in diretta ricordatevi di seguirci su Twitch per le nostre divertentissime dirette dedicate al gaming. Vi ringraziamo per averci seguito fino alla fine e speriamo che vi sia piaciuto questo video. E per scoprire 6 cose che rendono ogni Surface unico cliccate qui. Per scoprire invece cosa è possibile fare con Microsoft 365 cliccate qui. Ciao!